Buonasera amiche e amici. Allora io questa sera ho fatto dei carciofi alla romana. Eccoli qua, ho tre carciofi, li ho puliti, tolte le foglie, le più dure, li ho puliti internamente, tolta la barbetta, li ho messi in acqua e limone, poi li ho sciacquati, li ho messi in pentola. Queste sono una tradizione romana laziale, li facciamo a Roma, sono buonissimi e li ho riempiti con prezzemolo, aglio, sale, pepe e mentuccia. E poi ho tolto un pezzo di gambo, l'ho buttato e il resto, come vedete, li ho messi qui insieme ai carciofi. Poi li ho messi in pentola, a coperti d'acqua, ho messo il vino e un po' di prezzemolo che era rimasto, l'ho messo così dentro la pentola. E' a fiamma bassissima, hanno cotto per 45-50 minuti, a fiamma molto molto bassa, coperti con coperchio. Ecco qua, questi sono pronti. Dai meraviglia, sono tenerissimi e buoni. E fate questa ricetta. Ciao a tutti, buona cena e buona serata.